Un grido inascoltato. Non condannatemi! Una ferita sempre aperta. Cos'altro mi hanno fatto Gerardo? Si hanno violentato. Un appello alla rinascita. Che il teatro ridiventa importante. A retroscena il Campania Teatro Festival, la Biennale di Venezia, per svegliare la coscienza e riscoprire la bellezza. Cercarla sempre, non arrendersi. Cercare la propria idea di bellezza, in se stessi e negli altri. Martedì, in seconda serata.